I mori dalla torre dell'orologio di Venezia scandiscono il nuovo orario di chiusura di bar e ristoranti. Piazza San Marco alle 18 è già praticamente deserta. Pochi curiosi turisti guardano l'acqua che esce dai tombini e crea l'effetto specchio. I camerieri dei celebri bar che si affacciano sulla piazza hanno raccolto le ultime ordinazioni al volo intorno alle 17.30. Poi rapidamente hanno sistemato tavoli, ombrelloni e sedie ma molti bar non hanno neppure riaperto. I turisti sono pochi e la spesa non vale l'impresa. Le boutique di lusso nelle calli intorno a San Marco sono vuote. I prodotti dei marchi più celebri della moda internazionale sono esposti ma nessuno li compra. Venezia senza turismo soffre come confermano Davide, Mirella e Mario, i titolari dell'Osteria alla Vedova, uno dei baccari più antichi della città. Ma i veneziani non vogliono mollare e anche di fronte a queste nuove limitazioni cercano di trovare un modo per rimanere aperti. Visto che il turismo internazionale si è bloccato lavorando solo con gli italiani, si sa che si lavora grossomodo per pranzo, si fa grossomodo un turno e quindi diciamo che abbiamo deciso di chiudere alle 15. E di tenere aperto nel giorno di chiusura. Esatto. Il nostro giorno di chiusura è giovedì. Piuttosto che sprecare ore di apertura per non fare nulla abbiamo deciso di togliere il giorno di chiusura e fare un pranzo in più fondamentalmente. Nei campi della Movida i tavolini sono quasi vuoti, qualche studente si attarda a bere uno spritz. Non si possono neanche festeggiare le lauree perché all'ora di chiusura non ci sono deroghe. I controlli in tutta la città sono serrati ma non c'è voglia di trasgredire. Se non è un lockdown ci assomiglia molto. Qualche turista disorientato non sa dove cenare perché le saracinesche dei ristoranti sono tutte chiuse. Le perdite per i ristoratori vanno dal 30 al 70 per cento a cui si aggiungono le spese sostenute per mettersi a norma, per evitare i contagi da covid. Restare aperti è una sfida. Noi siamo positivi nel senso che ce la faremo sicuramente, sì, sì, assolutamente. Noi siamo una realtà affermata, siamo uno dei bacari più antichi, se non il più antico di Venezia, quindi abbiamo le spalle grosse e comunque la prudenza c'è. Avere un po' di pazienza deve passare questa calamità. a lungi ci assoli. Sì, è un po' di pazienza, perché non servei con la batteria.